LAS VEGAS A Monaco porteremo un DAC della serie 3 che sarà anche un preamplificatore e con un amplificatore per cuffia dedicato proprio per le cuffie con un funzionamento in classe A fino a tre quarte quindi una cosa di alto livello per il suo target Perfetto, grazie a te Prego A presto Grazie a te